Mi chiamo Michelle, ho 14 anni, questa è la mia famiglia. Sono un po' una testa calda, anzi bollente. Sono una ragazza testarda, a volte lunatica. Se voglio una cosa devo tenerla, sennò faccio il casino totale. Vado più d'accordo con i maschi. Con le femmine non vado molto d'accordo, soprattutto con le perfettine, perché se la tirano ma in realtà non sono belle. In casa comanda Michelle. Si fa tutto quello che dice lei, si mangia l'orario che dice lei, si può uscire anche quando dice lei e dove dice lei soprattutto. Io ci tengo molto al mio look, infatti se non ho un visito alla moda io non esco. Non mi ci vedo molto negli anni 60 perché non resisterei a stare tutti i giorni con quegli abiti non alla moda.